L'opera di riqualificazione del Lungarno, ma non è intonigiale, lascia io oggi. Sì, noi avevamo già deciso da tempo di riqualificare questa parte del Lungarno della riva destra, proprio a dimostrazione del fatto che la nostra attenzione sulla riqualificazione, il riassetto di quella parte così fragile della città come il centro storico di Firenze è massima. In questo caso presentiamo un progetto da 1.100.000 euro che nasce da una collaborazione forte con i soggetti privati, nello specifico la famiglia Ferragamo e il Lungarno Collection. Grazie a loro possiamo completare l'intero intervento che ci consentirà non solo di rifare tutti i sottoservizi e in modo contestuale, quindi nuova rete del gas, nuova rete idrica e tutta la rete elettrica, ma anche la riqualificazione in superficie, riportando il Lungarno Acciaioli proprio come era prima dell'asfaltatura, come siamo abituati a vederlo solo nelle cartoline o nelle foto di Alinari, con la pietra. In questo modo completeremo tutto il percorso pedonale in pietra che abbiamo avviato con via Tornabuoni, Ponte Vecchio, por Santa Maria, grazie a questa parte del Lungarno, che è appunto il Lungarno Acciaioli. In questo modo dimostriamo che solo insieme possiamo riqualificare la nostra città e sarà lo stesso metodo che utilizzeremo per restituire ai fiorentini il Lungarno Torrigiani, che ieri è stato colpito così drammaticamente da questo smottamento. Grazie a tutti.